Tieni, prendi questa. Ehi, stiamo scendo in tre. Sta giù. Tieni, bandit, diversivo, prophet, andiamo. Capo Romeo, qui Romeo 1. Inizializzazione su riscaldamento, passo. Ricevuto Romeo 1. Dobbiamo farti entrare lì, nel top. Sta scoppiando una guerra. Il chef Alpha. No. Ricordi quei tizi che ti hanno scaricato addosso i K-ball? I tizi che ti hanno mantenuto in stasi per chissà quanti anni? I tizi che mi hanno strappato la nanotuta dalla carne? I tizi che stavano per fare lo stesso a te? I self? Quei tizi? Andiamo. Attenzione. Sbarco nanotuta in corso. Tutto il personale non richiesto deve abbandonare... Via del sistema di sicurezza a sé. Grazie a tutti. Silenziatore. Stiamo entrando dalla porta principale. Dobbiamo puntare sull'effetto sorpresa. Nessuno è abbastanza folle da fare una cosa del genere. Facciamo piano. Andiamo nel quadro e di intervento rapido pronte. Occultamento attivo. Occultamento attivo. Hanno portato via tutti i treni. Li vedo dall'alettamento. Sparco tutta il corso. C'è il prof. È per questo che hanno portato tutto. Lo stanno portando in laboratorio. Ma che poter andare al pezzo a fatto? Dai! Questa è una specie di super soldato. Super soldato si è andato. Anche la USA non è tutto qui. Lo... Corazza massimista. Qui c'è della sua ultima attenzione. Violazione del perimetro del settore 2 Alfa. Abbiamo almeno altri due nemici. Provate di limite a questo strato. Il primo possibile. Passo. Merda. Rinforzi. Mi dispiace per questi pastori. Soppressione. Avanzare. Di solito li ammazzare fastidio. Di solito li ammazzare fastidio. Di solito li ammazzare fastidio. Di apertura. Fuoto. Fuoto. Avanzare di parati. Attenzione. Sono previsti breakout in seguito ai danni della tempesta alla rete energetica. Romeo 1. Ci spostiamo sull'obiettivo. Passo. Un po' troppo rumoroso. È molto meglio questo. Un arco. Sì. Sarai una macchina di morte silenziosa e invisibile. Questa è roba seria. Ti piace? No. Non hai sentito la parte migliore. L'arco è connesso alla tuta con laser al carbonio. Ha tanta energia cinetica da battere un rinoceronte. Con le punte intercambiabili puoi lanciare una carica esplosiva su qualsiasi bersaglio. E soprattutto resti occultato. Ora ti piace. Va già meglio. Bene. Muoviamoci adesso. Andiamo. Allora. 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 Lo has root. Come? Come. Come! 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 Tipo! T还 e China! Stiamo infilando. Siamo nel cuore della sella. Hanno mille o due... Ehi, Chef. Teatala con il chef. Gli alieni sono andati. Dovrete sapere ormai. Dimmi che è uno scherzo. Avanti, Psycho. Muoviamoci. Fatti vedere in faccia. Mi hai strappato dalla mia tuta ora. Fatti vedere in faccia. Psycho, andiamo. Ti troverò. Ti troverò, cazzo. Lo sai che quando ti strappano la tuta sei cosciente? In molti sono morti urlando. Il loro cuore non ha retto il dolore. Oh, cazzo. Avanti. Andiamo. Ok, ti copro io. Vediamoci sul lato lontano. A tutti i settori, all'arco. I fuggitivi stanno attraversando il perimetro. Soffrire i versati. Ho giù. Ho giù. La merda, sono qui. Segnalate. Capo 2-4. Il bersaglio è nella zona del ponte 5-10-6. Si richiedono rinforzi. Passo. Attenzione. Si localizzate. Tutto il personale insieme. Mi hai appena reso le cose più difficili. Il dettaglio è uscita con l'erroco. E' violata la difesa di vetrana. E' matrimo gli attenti e un verrà distrutto. E' un'attività conosciuta come fronte. Il senso è un filo di guardia. Ti teniamo sottotiti. Ora resta immobile. Se non vuoi che ti faccia pensi. Riusciremo a stalarmi, fronte. Resisti. Dammi un minuto. Merda. Cambio di contratto. Sicuro di farcela da dove ti trovi? Falla finita. Non mi serve una muta del cazzo. Procedi. Ci vediamo più avanti. Ok? Ricevuto. Ci muoviamo. Ci vediamo. Senatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Psyco, procedo alla prossima area. Psyco? Sì. Ricevuto. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. A superare il livello di sicurezza dei occhi aperti. La rete energetica mondiale viene alimentata da una sola macchina CEF nel Dome. E' troppo semplice. E invece si. Niente energia, niente Cell. Ed è fatta. No. Il Cefalfa mi ha mostrato una visione. Non è la prima volta. Deve pure esserci un collegamento. Prophet. Gli alieni sono andati. Li hai distrutti tu stesso. E' rimasto solo qualche superstite. No. C'è dell'altro. Ascolta. Mentre tu davi la caccia a un super alieno immaginario. La Cell pensava conquistare il mondo. Ci serve che torni qui e subito, capo. Abbiamo bisogno di te per fermare la Cell. Non esiste solo la tua rivoluzione. Io ho visto. La Cell sta giocando con un potere che nemmeno immagina. Qualunque cosa stiano facendo, sarà la fine del mondo. Dobbiamo fermarli. Cazzo se li fermiamo. Su, andiamo.